buonasera amici cripto investitori ben ritrovati al nostro appuntamento sull'analisi tecnica oggi andiamo a studiare un altro indicatore molto più veloce di tutti quelli che abbiamo visto finora infatti molti lo utilizzano per operazioni molto a breve questo indicatore si chiama stocastic rsi detto anche stocastic rsi a seconda che vogliamo fare gli inglesi oppure no questo non è un vero proprio indicatore in senso stretto perché è più un indicatore su un indicatore infatti la parola è composta e indica che applico l'indicatore stocastic che fa una cosa sull'indicatore rsi che ne fa un altro che dovremmo ormai conoscere tutti quanti molto bene dato che lo applichiamo pressoché in tutte le analisi che facciamo essendo un indicatore composito ci fornisce una derivata seconda del prezzo e questo lo allontana ancora di più dal prezzo stesso quindi non è così facile da utilizzare da solo in quanto potrebbe fornire tantissimi falsi positivi proprio a causa della sua velocità nei confronti del prezzo è un indicatore molto veloce che tende a variare in maniera molto spezzata molto volatile e per questo va utilizzato assieme a tutto un corredo di condizioni al contorno e di analisi che occorre fare per filtrare proprio questi falsi positivi che altrimenti ci sovrasterebbero nell'analisi di oggi andiamo proprio a vedere innanzitutto come si calcola questo indicatore e in seguito andiamo a vedere i segnali che ci dà e andiamo a vedere come integrarlo con tutto quel corredo di analisi ulteriori che dicevamo proprio per utilizzare al meglio questo indicatore per prendere posizioni nel mercato seguitemi chi mi segue sulla pagina facebook the crypto gateway dove pubblico giornalmente tutte le varie idee di trading che mi vengono in mente conosce l'importanza che do all'indicatore rsi infatti lo includo praticamente in tutte le mie analisi inclusa quella sul bitcoin che ho pubblicato oggi l'indicatore rsi è molto utile perché ci dà un'indicazione una panoramica rapida sulla condizione del mercato però è un indicatore un po lento diciamo che non viene molto comodo se si applica su time frame molto ridotti oppure se si punta a andare a carpire dei movimenti di prezzo sul 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 brevissimo termine qui è dove sopperisce lo stocastic rsi che è un indicatore che ha come scopo proprio andare a cogliere i movimenti impulsivi insomma le i movimenti rapidi li coglie subito ancora prima che accadano a volte laddove naturalmente c'è questa velocità questa anticipazione abbiamo il rovescio della medaglia che sono i falsi positivi questo motivo per cui lo stocastic rsi non è per tutti va saputo utilizzare va saputo integrare con un corredo di analisi volte proprio a filtrare da dei falsi positivi i segnali che ci dà questo indicatore cerchiamo di andarlo a capire partendo da come si costruisce lo stocastic rsi esso è un indicatore applicato su un indicatore quindi è l'indicatore stocastic che solitamente viene calcolato sul prezzo questo si calcola prendendo un intervallo prezzo minimo prezzo massimo di un periodo p che chiamiamo solitamente a 14 candele in questo intervallo andiamo a vedere dove si posiziona il prezzo di chiusura della candela di oggi quindi il calcolo grezzo è prezzo meno prezzo minimo dell'intervallo p fratto prezzo massimo meno prezzo minimo entrambi dell'intervallo p è un rapporto insomma dalla distanza tra il prezzo e il prezzo minimo e il prezzo massimo e il prezzo minimo va da 0 a 1 e poi viene moltiplicato per 100 per renderlo insomma in percentuale lo stocastic rsi non va a prendere lo stocastic sul prezzo bensì punto sull'rsi sempre con periodo p che di solito è settato di default a 14 quindi abbiamo la formula che cambia prendendo questa forma rsi meno rsi minimo dell'intervallo p fratto rsi massimo meno rsi minimo sempre dell'intervallo p quindi in sostanza andiamo a prendere l'intervallo che le in cui l'rsi si muove nel periodo p massimo e minimo e andiamo a vedere dove si trova oggi l'rsi rispetto a questo intervallo capito quindi se l'rsi è al massimo avrò uno stocastic rsi di 1 se l'rsi al minimo avrò uno stocastic rsi di 0 in sostanza questo è la derivata seconda del prezzo oppure la derivata prima dell'rsi se facciamo un paragone con la fisica classica ad esempio se il prezzo è la coordinata x la distanza l'rsi diventa la velocità e lo stocastic rsi l'accelerazione vi chiedo scusa per questa parentesi ma da bravo ingegnere ve lo dovevo dire insomma allora come si grafica lo stocastic rsi da solo ci dice molto poco e quindi è da elaborare un po per per renderlo più interpretabile in realtà sul grafico non appare lo stocastic rsi come lo abbiamo descritto nella formula grezza di poco fa ma appaiono due linee derivate da esso quindi la confusione si fa ancora più fitta perché abbiamo una linea azzurra e una linea rossa la linea azzurra viene chiamata linea k la linea k è la media mobile semplice dello stocastic rsi con periodo k la linea rossa è la media mobile semplice di k quindi la media mobile semplice della media mobile semplice dello stocastic rsi questa volta con periodo di questo insomma non dovete saperlo per forza perché tanto non è che dovete ricavarne la formula voi però quello che è importante capire è che questi sono due smussamenti progressivi dello stocastic rsi abbiamo la formula brutta che abbiamo visto prima che come vedete come vedevate anzi era massimo minimo col prezzo con la rsi anzi che varia puntualmente quindi vi potete immaginare un grafico molto spezzato molto su e giù di difficile interpretazione perché darebbe tantissimi falsi positivi darebbe un segnale molto sporco e molto rumoroso questa applicazione di media mobili è volta proprio a ridurre la rumorosità del segnale ed inoltre il fare la media mobile sulla linea k in seguito utilizzando la linea d ci permette di ricavare un segnale ulteriore che ha l'incrocio tra la linea k e la linea d che si comporta un po come i cross delle medie mobili sulle sulle nostre trend analysis oppure i cross delle due linee nelle analisi di cimoku per chi ha visto il video sui cimoku e quindi in sostanza abbiamo un segnale in più abbiamo delle informazioni in più che non guastano mai i parametri solitamente sono 3 3 14 14 3 3 sono i due periodi delle medie mobili semplici di k e di di molto brevi naturalmente perché da un lato si voglio un segnale smussato ma dall'altro voglio mantenere la velocità del segnale quindi non è che posso fare una media mobile troppo lunga che altrimenti mi va a ridurre il numero di segnali che lo stocastic rsi mi dà 14 14 è il periodo dello stocastic e il periodo dell'rsi quindi lo stocastic prende i massimi e i minimi di 14 candele e l'rsi è calcolato su un intervallo 14 ora passiamo ai segnali la parte il cuore insomma di di questo indicatore i segnali che ci dà la parte che ci interessa l'indicatore è molto veloce fornisce una marea di falsi positivi ripetita juvent insomma non è utilizzabile da solo ma va integrato con analisi di trend e analisi di volume analisi di trend perché perché lo stocastic rsi non ci riesce a dare informazioni sul trend ci potrebbe dare informazioni sulla forza del trend come vedremo nelle prossime slide però non sulla direzione del trend quindi per quello serve un'analisi classica su trend line supporti e resistenze o anche medie mobili che come sempre vengono utili analisi di volume perché il volume naturalmente è un dato a sé stante perpendicolare a tutto il resto trend line supporti resistenze medie mobili ok ancora e questo ci dà l'impostazione del mercato quindi vediamo se in uptrend in downtrend vediamo se siamo in un trading range se stiamo rimbalzando tra un supporto e una resistenza insomma capiamo l'impostazione magari anche l'rsi può essere utile perché no e in seguito una volta che abbiamo capito l'impostazione cosa ci dà in più lo stocastic rsi ci dice qual è l'entry point ottimale quindi ci dà quell'informazione in più dettagliata questo si configura molto bene per i trade che hanno un orizzonte temporale breve perché ci dà proprio l'entry point ideale in cui acquistare e poi usciamo insomma a seconda dei nostri target per poi rientrare magari all'entry point successivo quindi ci fa magari anche cavalcare un uptrend con le sue varie flessioni ci aiuta a sfruttare meglio le varie gambine rialziste dell'uptrend andando a zoomare su candele più più dettagliate un'altra cosa che è interessante è andare a tarare kd i periodi di kd o meglio in base allo storico della coin cosa significa significa vi ricordate cosa sono kd sono i periodi delle medie mobili semplici su cui andiamo con cui andiamo a sbussare lo stocastic rsi quindi maggiori sono kd minori saranno il numero di cross tra queste due linee minore sarà la il rumore del segnale però minori saranno i numeri di segnali che ci danno di conseguenza questo quindi può essere utile in particolare sulle coin più volatili perché magari sto studiando un alt coin che già di suo è volatile se poi ci vado ad applicare lo stocastic rsi divento pazzo perché mi dà 100.000 segnali di incroci e non capisco più niente quindi magari andare a provare a mettere kd 4 5 6 anziché 3 potrebbe andare insomma ad aiutarmi a ottimizzare meglio le mie posizioni continuiamo con i segnali allora il segnale classico è la in condizione di uptrend il cross della linea k con la linea d quindi la linea k che è quella più breve meno quella mediata una volta sola incrocia al rialzo la linea d che ha quella mediata due volte quindi quella un po più lenta in fase di per venduto quindi sotto al livello 20 di stocastic rsi questo ci dà un segnale di acquisto perché il prezzo potrebbe avere a breve un aumento quindi io acquisto lì mi pongo come target che ne so il 3 il 4 per cento e poi vendo altra possibilità il breakout da un pattern confermato da volume che quello già di per sé è un segnale di ingresso in questo caso come ci aiuta lo stocastic rsi se fa un bel cross anche qui in per venduto in zona bassa cioè inferiore a 50 abbiamo un segnale di conferma in più che insomma sappiamo che non guasta in un mondo di probabilità ripetuti picchi in area di iper venduto sempre più alti durante un downtrend indicano che potremmo essere in fase terminale del downtrend quindi il downtrend si sta indebolendo segnale interessante perché se magari lo congiungo come dicevamo prima con una trend line discendente che segue questo questo downtrend piuttosto che con la sua media mobile a 9 a 30 possiamo utilizzare come segnale trigger diciamo il cross del prezzo con la media mobile piuttosto che con la trend line e ricavando quel segnale dal fatto che prima vedevo i miei picchi ripetuti sempre più alti che vedevo che il downtrend era in fase di indebolimento prezzo in divergenza con lo stocastic rsi quindi cosa significa prezzo in discesa ad esempio picchi dello stocastic rsi invece in aumento potenziale inversione in arrivo anche qui abbiamo un indebolimento del trend quindi anche in questo caso può valere una considerazione analoga a quella che abbiamo fatto poco fa sull'acquisto valgono naturalmente anche le condizioni inverse a volte infatti lo stocastic rsi viene utilizzato da chi vuole shortare ad esempio prendiamo il segnale classico invertiamolo condizione di downtrend quindi siamo in calo la linea k incrocia la linea d in fase di iper comprato quindi il prezzo calerà di nuovo parte il nuovo movimento ribassista del downtrend e quindi è un punto d'ingresso per uno short che può essere potenzialmente utile ecco altri segnali segnali sulla forza del trend come vi dicevo non ci dice dove va il trend ma ci dice con che intensità ci va ripetuti cross della linea k con la linea d in iper comprato indicano segnali di elevata forza del trend rialzista naturalmente in questo caso ribassista se fosse l'inverso anche qui io qua ho fatto gli esempi per il trend rialzista ma vale l'esatto opposto specularmente ripetuti picchi in iper comprato senza mai ritornare in iper venduto danno un'idea di forza del trend picchi minimi sempre più alti non in iper venduto e i massimi in iper comprato quindi immaginatevi una sorta di una sorta di triangolo rettangolo crescente dove abbiamo i picchi il lato il cateto lungo superiore sempre in iper comprato il lipotenusa invece che parte dall'iper venduto magari e sale 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 congiungendo i picchi sempre più alti questo dà la forza del trend in rialzo in ribasso come vi dicevo è l'opposto lo stocastic rsi non va bene per i segnali di vendita perché mi dà il segnale di acquisto come vi dicevo ma essendo un segnale così a breve lui cambia repentinamente quindi non non vale la pena considerarlo per i segnali di vendita devo affidarmi ad altre analisi ho dei target che mi prefisso io ad esempio vado a vedere le successive resistenze utilizzo fibonacci le estensioni per capire dove vendere insomma un'analisi più classica lo stocastic rsi non mi aiuta in questo caso andiamo a vedere un esempio di buon uso dello stocastic rsi per chiudere il cerchio insomma andiamo a vedere l'applicazione pratica ho cerchiato questo punto e ho cerchiato questo punto sullo stocastic rsi cerchiamo di capire il perché naturalmente dobbiamo immaginare di avere il grafico a disposizione fin qui perché col senno di poi è tutto più facile siamo qui cosa succede succede che siamo in una fase di uptrend come vedete sono candele da quattro ore quindi neanche tanto a breve però siamo in uptrend con prezzo che fa massimi e minimi progressivamente più alti classica situazione di uptrend qua potrebbe essere una correzione abc per chi conosce le onde di elliot e comunque appunto un piccolo ritracciamento prima di un eventuale altro movimento rialzista che poi c'è stato però qua non lo sapevamo però sapevamo che siamo stiamo testando un supporto di 6500 euro che vedete ha funzionato qui ha funzionato qui quindi è un supporto importante qua fatto da resistenza e quindi insomma è una barriera di prezzo cosa si aggiunge a questo si aggiunge il fatto che abbiamo il cross dello stocastic rsi in zona di iper venduto a rialzo vedete la linea k azzurra incrocia la linea rossa la linea d e quindi questo è un segnale di ingresso segnale di vendita vedete non va bene questo qui che è il segnale inverso perché oddio qua magari si se poi uno rientrava qui però insomma è facile solo a dirsi però uno magari vuole cogliere tutto questo movimento quindi potrebbe valer la pena utilizzare un'analisi tecnica più classica insomma disegnare la trend line vedere un po dove gli obiettivi target di prezzo qui avevamo il pattern test e spalle invertito insomma un'analisi tecnica più classica e questo è quanto per ciò che riguarda lo stocastic rsi direi che è già troppo perché è un indicatore complesso che bisogna metabolizzarlo bene però vale la pena sperimentare su di esso perché ci aiuta soprattutto se siamo quei trader che hanno voglia di fare tante tante operazioni quindi mi raccomando testatelo testate tarate magari i valori vedete qui ha sempre tre tre ma magari taratelo applicatelo fate backtesting alla grande non stufatevi mai di farlo e poi perché no potrebbe diventare uno dei vostri indicatori preferiti ragazzi buona serata a tutti grazie 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 grazie